Benvenuti a questo ultimo incontro dei giovani qui alla Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, ispirata da Mamma Natuzza. L'incontro di oggi ha come tema Semi di Misericordia ed è il tema che vorrà accompagnarci attraverso la testimonianza di tante figure. Possiamo dire che il tema, il simbolo, il logo di questa giornata è il seme, intorno al seme che viene sparso, che viene seminato, che viene accolto dalla terra, la vita dello stesso seme che muore per produrre e quindi questo confronto tra il seminare, il morire e soprattutto il produrre con senso di responsabilità per il bene, per il futuro dell'umanità. In questa giornata avremo tante testimonianze, come dicevo, in modo particolare la testimonianza, diciamo che il cuore della giornata sarà quella di Don Luigi Ciotti, però la mattinata noi la vorremmo vivere all'insegna dell'attenzione alla parola di Dio, è Cristo il seme che muore per darci la vita nuova, la vita di Dio e costruire un'umanità nuova ed è l'invito che fa a tutti noi di essere semi che accolgono questa vita dello Spirito e si lasciano morire, donarsi, liberarsi da tutto, offrirsi per costruire responsabilmente una umanità nuova, una Chiesa nuova, uomini e donne nuove, costruire come Gesù stesso diceva a Natuzza, un mondo nuovo fondato sull'amore, sull'unità, sulla verità, sulla bontà. Senti il cuore della tua città, batte nella notte intorno a te, sembra una canzone muta che cerca un'alba di serenità, semina la pace e tu vedrai che la tua speranza questo ultimo appuntamento dell'anno pastorale e vedete già il canto con cui abbiamo voluto dare la via questa giornata, parla di seme, di seminare e sarà questa la parola chiave di oggi, la semina, il seme, il seminatore, il significato del seme, il significato del seminare, il significato del raccogliere, cosa comporta tutto questo? Ebbene oggi noi lo vogliamo presentare proprio alla luce della misericocchia, il seminare misericordia, dove la parola misericordia è molto più ampia di quanto noi abitualmente la descriviamo. Bene, io riprendo la parola della semina proprio attraverso un racconto, perché anche questo racconto ci accompagnerà come il sottofondo che guiderà il nostro incontro, le testimonianze che ascolteremo, che vedremo e anche la celebrazione dell'Eucharistia, credo che questo racconto un po' può essere quella parola che ci ritorna nella mente, nel cuore e che ci aiuta a comprendere quello che mano a mano durante la giornata noi andremo a vedere o a sentire. È un contadino che tutti i giorni ha questo compito, questo dovere per la casa di andare a prendere l'acqua al pozzo e va con il suo giumento e con due anfore. Riempie queste due anfore e tutti i giorni fa la stessa trafila dal pozzo a casa e ha due anfore. È un'ancora, la prima anfora che ha comprato, vecchiotta, anche un po' crepata perché il tempo logra anche questo, è un'ancora nuova, di zecca, appena comprata al mercato, una novità che ha trovato lì per lì. E allora quando arriva a casa, quasi sempre, quasi sempre, l'ancora nuova è piena, mentre l'ancora che è vecchiotta, che è un po' crepata, invece non dico di mezzata ma quasi, e questo tutti i giorni, tutti i giorni, e il pericolto di non era un problema, il problema era che tra le anfore, tra le anfore nasceva una discussione, più che altro era l'ancora nuova che si permetteva il russo di deridere e l'ancora un po' crepata, no? Perché diceva, vedi, non serve più a nulla, tu non tieni l'acqua, il contadino fa tutta questa fatica per venire ad aggiungere l'acqua al pozzo e quando arriva a casa, vedi, io sono piena, non ne cade manca una goccia e tu invece metà, non si pone più a nulla. Sennò che un giorno l'ancora anziana crepata disse al padrone, guarda, lasciami a casa. Perché tutta questa fatica di portarmi al pozzo, a riempirmi di acqua, tornare a casa, essere di mezza e poi lo solo, assorbirmi tutti i giorni, tutti i giorni, no? Questa l'altra ancora collega, amica, collega che si permette ogni volta di sforzare, no? Di deridermi, lasciami a casa. E' un'acqua di chiudere. Il contadino sorrisse, tutto contento sorrisse, arrivò di nuovo l'ancora, andranno di nuovo al pozzo, riempirono e stanno la facendo, a un certo punto disse all'ancora che era crepata, che senti, osserva attentamente sul ciglio della strada. Cosa noti sul ciglio della strada? Vedi, io ho seminato dei fiori e tu tutti i giorni, con quell'acqua che perdi, non fai altro che annaffiare, annaffiare, annaffiare. E secondo te, no? Le fiori che io porto a mia moglie e lei con tanta cura mette sul tavolo, ma da dove vengono? Ti raccolgo lungo il ciglio della strada. E chi è che permette a questi fiori di rimanere, di crescere, di rimanere belli verdi, sempre profumati, freschissimi? Sei tu! L'ancora si riemporò e conservò come un segreto tutto questo. Per dire, vedi, anche questo serve. Quello che è imperfetto, ciò che è imperfetto agli occhi di Dio è grande. Per cui quando ci sembra che abbiamo seminato e non abbiamo raccolto nulla o abbiamo raccolto un minimo di quanto, per quel minimo vale la pena di ricominciare a seminare. Se ci sembra che tante parole le abbiamo buttate al vento, ci sembra che parla di un muro, sembra che non mi ascolta il tuo figlio, sembra che non è possibile, non cambia nulla, ma c'è poco. Quel poco merita di ricominciare a seminare, di ricominciare a parlare, di ricominciare a soffrire, a offrire, anche per quel poco. Eccolo il motivo di questo racconto che, ripeto, ci accompagnerà durante questa giornata. Siamo a 1531, è il 9 dicembre, quando Juan Diego, adesso vedete il video, si incontra con questa bella signora. Juanito, piccolo mio, ti ho aspettato. Ho riferito al bescovo il tuo messaggio, proprio come tu mi hai chiesto. Che cosa ti ha detto? È stato gentile con me, mia signora, ma non mi ha creduto. Io penso che sarebbe meglio mandare qualche persona conosciuta e più rispettabile. Ho scelto te, proprio perché sei tu, Juan Diego. Ma io sono soltanto un povero indio, io non sono niente, non sono nessuno. Domani vai di nuovo dal bescovo, salutalo a nome mio e fagli conoscere ancora il mio desiderio, che ti ho mandato io personalmente. La Santa Vergine Maria, la Madre di Dio, vai pure. Mia signora, farò come vuoi tu, ma so che lui non mi crederà. In ogni caso, tornerò domani pomeriggio per darti la risposta. Buongiorno, Juan Diego. Vostra eccellenza, ho visto di nuovo la signora. Quando l'hai vista la prima volta? Ieri mattina, mentre andavo alla messa. Stavo camminando ai piedi della collina del Tepeyac. Ho sentito una musica meravigliosa, come non avevo mai sentito. Da prima ho pensato di sognare. Mi pareva che la melodia venisse dalla sommità della collina. E così sono salito. Quando sono arrivato in cima, ho visto la signora. Lei sapeva il mio nome. Juanito. Juan Dieguito. Poi mi disse di portarvi il messaggio. Cioè che io dovrei costruirle un tempio ai piedi della collina? In modo che in esso io possa mostrare e donare tutto il mio amore e aiuto. Perché sono la vostra madre. Io ascolterò i pianti e i lamenti di coloro che mi invocheranno. Mi ameranno e avranno fiducia in me. E allevierò le loro miserie, i loro dolori, le loro sofferenze. Juan, Juan, Juan. Juan, ascolta figlio mio, ho un messaggio per te perché tu lo porti alla tua signora. Quale messaggio, vostra eccellenza? Dille che il Vescovo del Messico le chiede di mostrare chiaramente che è davvero la madre di Cristo. E che io devo avere una prova che questo tempio è ciò che lei desidera. Riferirò il vostro messaggio. Juanito. Cosa ha detto il Vescovo questa volta? Mia buona signora, gli ho riferito il tuo messaggio e lui l'ho ascoltato. Spero che non ti arrabbierai, ma lui non mi ha creduto. Vuole un segno che veramente sei tu e che desideri questo tempio. Non scoraggiarti, mio caro e fedele figliolo. Ti sei comportato bene. Vai in cima al colle del Tepeyac e là troverai delle rose. Mettine più che puoi nel tuo mantello. Poi vai dal Vescovo e digli che, dopo questo segno, egli deve fare quello che desidero. Non mostrare a nessuno ciò che tu porti, mio caro, prima di giungere dal Vescovo. Non temere. Oggi il Vescovo ti crederà. Ora va, mio piccolo e carissimo figlio. Oggi il Vescovo ti crederà. Avanti. Ho portato al Vescovo il segno che mi aveva chiesto. Va bene. Fammi vedere. Oh no. Posso mostrarlo soltanto al Vescovo. Sono il segretario del Vescovo. Fammi vedere. È come mostrarlo al Vescovo. No. Bene, allora guarderò da solo. È mio dovere. No. Juan Diego. Mostra eccellenza. Perché non mi hai detto che era qui? Stavo per farlo, eccellenza. La signora vi ha mandato un segno. Juan Diego, mostracelo. Fai vedere quello che hai nel mantello. Rose. Rose in dicembre. Rose in dicembre. Musica Ma questo video della Madonna di Guadalupe per la prima volta non l'abbiamo fatto vedere a Natunza, proprio qui, lei è trasalita, perché nel vedere l'immagine ha la stessa pelle della Madonna come la vedo io, la Madonna di Guadalupe, moronita, mulata, perché la Madonna è un ebrea e quindi hanno questa caraggione olivasta. Però ripeto, questa parola prendiamola per noi, non sono forse io il tuo mare, di che cosa devi tenere? E allora noi vogliamo esprimere la nostra preghiera e lo facciamo proprio con la coroncina alla Vergine Maria della Misericordia. Salve Regina 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 Pace al popolo cinese. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta per la donna, benedetta per il frutto del tuo esegno di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, il Padre che mi prego. E ringrazio intanto Don Luigi che è venuto in mezzo a noi, Don Elio Stadionile che è responsabile della Maggiore, Don Diego Fiorillo, tutti gli anni che vi grazie. Siete tra noi e vi trova a sedervi. Mi sento a me per responsabilità. Questa è la prima domanda che ho rivolto, comunque, a lui e a te la parola. Beh, buongiorno, veramente buonasera a tutti. Io credo che per rispondere alla vostra sollecitazione, partendo dalla mia gioia di essere qui con voi questa sera, per condividere, vi prego. Non ho nessun altro titolo, l'unica laurea che ho è in Scienze Confuse. Ma non è una battuta, perché voi io sento la dimensione profonda dei miei limiti. Il primo elemento che mi sembra fondamentale per rispondere alla vostra sollecitazione è che è necessario conoscere, è la conoscenza, la via maestra del cambiamento. Guardate, c'è un grave peccato oggi, che io lo definisco, uso questa espressione forte, per definire il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. C'è troppe informazioni di seconda mano per sentito dire. Il mio dovere, il vostro dovere è quello di conoscere, non fermandosi in superficie, ma scendendo in profondità. Abbiamo la responsabilità delle parole. Perché se uno non conosce, non ha gli strumenti per assomersi fino in fondo, non in modo superficiale, ma in modo autentico, la propria parte di responsabilità. Noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. E allora, che vuol dire poi l'assunzione della tua parte di responsabilità? In un orizzonte non di eccezionalità, ma di quotidianità, di un'assoluta normalità, che comincia dalle piccole cose, ma soprattutto deve cominciare da qui dentro. Quando sento parlare che il cambiamento deve partire dal basso, rischia di essere un'espressione facile, ma il vero cambiamento deve cominciare da dentro. E solo così è possibile partire dal basso. E quando conosci che quattro milioni di persone in Italia oggi vivono la povertà assoluta, un milione di bambini vivono la povertà assoluta, otto milioni vivono la povertà relativa, per non aprire lo sguardo sulla mondialità, che invece che andare avanti si è andata indietro, perché il 2013 era stato stabilito dalle Nazioni Unite e dai suoi organismi l'anno in cui era il tetto della lotta alla povertà. Adesso l'hanno rinviato al 2030. Ma di come stiamo parlando? 42 guerre sono in questo momento in atto sulla faccia della terra. E voi sapete che il diametro della terra, il diametro della terra è 12.000 km, ma sono stati costruiti già 14.000 km di mura e di figli spinati. Lo sapete che le mafie non sono figli della povertà e della retratenza. Ma di quella si avvalgono. Quello terreno fertile, che gli permette tutto questo. E con l'unione macchina nel nostro paese sono veramente le due facce della stessa medaglia. Sono i parassiti. I parassiti che ci impoveriscono tutti. Ecco allora perché ti senti piccolo, ti senti piccolo, ma senti anche che non si può tacere. Che dobbiamo unire le nostre forze, le forze di onesti per diventare una forza. Che dobbiamo spogliarci a volte di tante ticchette che ci siamo messi ai nostri gruppi, le nostre associazioni, i nostri movimenti per unire le nostre forze. Se ci sta a cuore veramente il bene comune, il bene di tutti, che è un atto d'amore, allora ci spogliamo di questo. Se no c'è altro, che mascheriamo, perché ci stanno rubando delle parole, e una è quella che tu hai pronunciato poco fa, in noi. Ce lo stanno rubando, signori, dopo le stragi di mafia del 92. Ma non dimenticando quella memoria di altre stragi, di altre violenze, di altre morti, nasce questo percorso di libera, un percorso che è un ovo. Oh, oggi trovate una marea di persone che dice noi, ma che continua a pensare io. Io. Pericoloso. Pericoloso. E' noi che vinci. Fatto di umiltà. Permettetà anche di passione. Perché quando uno ci crede nelle cose che fa, gli chiedi che cosa fai, trovi della gente, un po' di passione. La passione è fatta di testa e di cuore. Di ragione e di cuore. Quando l'Italia ha 6 milioni di analfabeti, ripeto, 6 milioni di analfabeti, il nostro paese, conforme nell'analfabetismo di ritorno. Allora non dobbiamo fermarci. Per saldare la terra con il cielo. Quella chiesa che piace a me, con tutti i miei limiti, le mie fatiche, le mie miserie, quella chiesa che ci invita a guardare verso il cielo. Io, attenzione, senza distrarci, dà la responsabilità che abbiamo verso il cielo. Allora, amici, e guardate che non è un caso che Papa Francesco, nelle ciche che hanno dato sì, nelle prime righe, fa proprio un riferimento che cosa consegnano i giovani oggi. Nelle prime righe, questo vale per me, vale per tutti noi, chiedonci, allora ci cresce uno scatto più, di assunzione delle responsabilità. E la prima responsabilità, io credo, è guardarci nella nostra coscienza. E guardarci qui dentro, è guardarci qui dentro. Auro, auro, cominciando dalle piccole cose, non siamo che per parlare dei massimi sistemi, imparare il coraggio di avere più coraggio. Perché ci vuole coraggio, perché senza coraggio la vita è meno vera, è meno viva. Voi capite che non è possibile che da 120 anni parliamo di Andrangheta, da 400 anni parliamo di Camorra, da 150 anni parliamo di Cosa Nostra. Possibile che non ci sia una rivolta delle coscienze, perché chi ha scelto il male, chi ha scelto il male, perché ha messo il male, una rivolta delle coscienze, che ha bisogno certamente di una rivoluzione culturale, forte, ci sono delle belle esperienze e voi mi siete maestri, voi mi siete maestri. Però non basta, però non basta. E mi dice uno che va una cicca, però che mio padre ha 14 anni dal Veneto dove siamo nati, sono i donomiti, ho detto donomiti, uno dice che se ne frega, no, i donomiti sono stati riconosciuti patrimonio di un'umanità. Io sono nato lì e quindi faccio parte del patrimonio di un'umanità. Grazie. E tutto questo, mi auguro che presto la Calabria diventi patrimonio di un'umanità per la rivolta dei suoi cittadini, per la rivolta dei suoi cittadini. Prima che aveva la rivoluzione e mio padre ha 14 anni, con il frattempo più grande, allora si poteva fare, arrivò a Pizzo Calabro e a Caologna lavorava. E mio padre e noi piccoli, anni dopo, quando parlava della Calabria, le lacrime le venivano agli occhi del mio papà, perché era piccolo. E cosa vuol dire a quell'età lasciare la propria terra, arrivare a una regione? Ma quello che ci raccontava è la meraviglia di quelle famiglie che l'avevano accorto, l'accoglienza, la meraviglia. Io padre ci raccontava la meraviglia che lui piccolo aveva ricevuto nel questo racconto. C'è una povertà materiale, c'è una povertà culturale, che non ci deve far dimenticare le cose belle, tante. Tantissime che ci sono, che a volte non fanno chiasso, non fanno rumore, che voi conoscete nei vostri territori. Questa è una realtà stupenda, una fiamma immensa. Facciamo conoscere le cose belle che ci sono per incoraggiarle, sostenerle, valorizzarle. E' un dovere educativo, dare una mano ai nostri ragazzi, accogliere, esercitarsi, ad accogliere le cose positive che ci sono. Perché rischiamo solo di fare mezzi alle cose che non vanno, che fanno più caso, più notizia. La gente è disperata. Perché è un problema della libertà. Chi è povero non è libero, chi è senza lavoro non è libero. La libertà va liberata anche nel nostro paese, in tutte le sue situazioni. E quello è l'impegno che ci chiede la vita. Di impegnare la nostra libertà per liberare chi libera non è. In questa regione purtroppo c'è, la volontà c'è. Però la paura diciamo che è per vale sempre. Come mai c'è? Non riusciamo a ammirci e a riperlarci, insomma. Anzi la volontà c'è, però purtroppo la paura ci costringe a non farlo. Anch'io mi ci metto perché sono meglio di chiudere questa testa. Beh, non è facile rispondere perché a parole sono semplici. Io stesso sono testimone di un attentato preparato nei miei riguardi e grazie all'intercettazione, solo grazie all'intercettazione, ho sventato. Io stesso sono testimone della condanna a morte che Tottorina è stato intercettato per due volte nel cancere che ha detto che mi hanno ucciso. Io credo che è noi che vince, non abbiamo bisogno di creare di eroi e quindi è giusta la preoccupazione, giusta, corretta, che Stefano ha portato. Dopodiché, signori, non possiamo pensare di andare avanti per sé un piccolo presenza di corruzione, di mafie nel nostro paese. Di massonerie che permettono giochi criminali di colpa, di colpa, di colpa, di colpa, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non dimenticherò mai quando nel 1900, pensate, 1900, un sacerdote in Sicilia che fonderà poi un movimento popolare da cui nascerà la democrazia cristiana, Don Luigi Sturzo nel 1900 disse La mafia, andiamo in quella siciliana, diceva La mafia è più di Sicilia, ma forse è la testa roba e poi aggiunse una drammatica profezia Risalerà sempre più forte, più crudele, verso il nord fino per andare oltre le alpi Lo snodo in Italia Futuro delle mafie non è il sud È già il nord Lì lo sono sotto traccia Non fanno molto chiasso Le radici storiche vanno qui Le capite di energia restano in un sud Ma gli affari, e che affari, li fanno al nord Lo snodo futuro è il nord Il problema più grave Non è solo chi fa il male Ma quanti guardano e lasciano fare Troviamo il sicuro Troviamo il sicuro Troviamo il sicuro E aveva ragione Il giudice Livatino Ucciso da Cosa Nostra Il giudice Livatino Quando io ho incontrato i genitori Allora sono morti E mi fecero vedere il diario del figlio Io lessi una frase che nessuno diceva in quel momento E da quel momento ho continuato a gridarlo ovunque Adesso sento che tantissimi lo stanno usando Io mi ricordo l'emozione Quel papà, quella mamma Il diario Quando lui ha scritto sul suo diario Magistrato, bravo, impegnato Innamorato di Dio Si è scoperto dopo la morte Che lui mandava in galera Quelli che dovevano andare in galera Perché non ripetavano le regole Creavano un danno a sé e agli altri Ma abbiamo scoperto tutti dopo la morte Che lui si mangiava lo stipendio In silenzio Per mandare dei soldi, dei viveri Alle famiglie A quelle mamme con i figli Che magari una parola di galera è lui In silenzio E quando la mamma mi apre il diario del figlio Io quella frase non l'ho mai dimenticata E da anni la grido Qui ha scritto Lo sapete già, lo conoscete già Ma ce la ridiciamo di nuovo Quando ho detto che alla fine della vita Non ci sarà chiesto Se siamo stati credenti Ma credibili E allora vi pregheremo per questo E vi prego Chiediamo a Dio nella preghiera Il nostro Don Michele Il nostro Presidente della Fondazione Pasquale Voi guardate che reparto di preti qua Che bello insieme Chiediamo a Dio Michele Che ci dia una bella pedata La dolce pedata di Dio Per andare avanti Per avere più coraggio Vi prego E soprattutto facciamo società con Dio Il pacchetto di mutua nazionale Si nascerà il mondo della pace Di guerra non si parlerà mai più La pace è un dono che la vita ci darà Un sogno che si avvererà Pace al popolo cinese Pace al Medio Oriente Pace al Medio Oriente Pace al Medio Oriente Si nascerà il mondo della pace Si nascerà il mondo della pace Di guerra non si parlerà mai più La pace è un dono che la vita ci darà Ammene Il Signore sia con voi E con il tuo Spirito Benedica Dio Il Padre Il Figlio E Spirito Santo Ammene La gioia del Signore E la nostra forza Andate in pace E in grado Grazie a Dio Carissimi amici Adesso vi do altri due appuntamenti importanti Il 26 luglio Per la fondazione È una giornata importante Pente se lui ricorda La morte apparente di Natuzza Ma soprattutto ricorda la sua promessa La sua promessa di offrirsi al Signore Per una missione grande Che l'ha accompagnata per tutta la vita Il Signore le ha chiesto di portare a lui anime E Natuzza ha vissuto questa donazione Questa promessa per tutta la vita Portando anime a Cristo E portando Cristo alle anime Attraverso la sua semplicità Umiltà E carità E l'altro appuntamento sarà Il 23 agosto Per ringraziare il Signore Per il dono della vita di mamma Natuzza E il giorno anniversario della sua nascita Forse anche allora Le persone avranno detto Che sarà mai questa bambina Ma nel piano di Dio Questa bambina è diventata un seme Che morto ha prodotto E continua a produrre Una spiga ricca di chicchi La forza di questa spiga La dinamis di questa spiga E' sempre lo spirito di Dio Lo spirito dell'amore Vi aspettiamo Qui alla Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime Arrivederci Grazie Grazie Grazie